secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie allora sono di simon ma puttale nonno ma che è grazie grazie ma conferma il ragazzo mi ha regalato elettrician simulator elettricista simulator vediamo a far sta l'asta e poi dopo lo proviamo dopo eh grazie Onitz vedete Onitz è uno serio vedete vedete datemi direttamente la key forza Milan forza Napoli grazie per i 15 il tac e poi maglia sborrata solo come piace a lei grazie a lei grazie a lei grazie a lei grazie a lei signore ma che devo fare questo mi sta portando tutto qua ma voi non si fermate ma voi fermate e mi devo pulire i piedi la la cabina un gabinetto ah questo è per cranos cranos te lo conservo eh ok oh cos'è sto coso bello grazie bellissimo cos'è bello non so c'è cadè non lo so un dipinto unico non lo so sarebbe un casino un macello sarebbe un casino un macello ma tu manca mezz'ora vai giù all'asta manca mezz'ora ciao cimmo ma poco dio eh mezz'ora dai mezz'ora cazzo dai non vado direttamente all'asta vai giù non vado direttamente all'asta vado ma spia al volo al volo al volo al volo al volo al volo subito banca sella eh guarda quanti aggiornamenti io sai che cosa gli rispondo a banca sella questo ti? questo gli rispondo a banca sella ti banca sella ti maffanculo scusa dove l'ha impallata dove sta la cassa? dove l'ha messa quella cassa? ho io il coglione dove sta? dove l'ha messa? vabbè vabbè sti cazzo ciò cazzo ma lo sapete perché escono livello 5 no? perché a livello 38 qua sono capito? a livello Allora Ah porco dio Mi sono cagato sotto E non mi è asciuta E non mi è asciuta